Salve, sono Toglio Barbara e oggi sono qui in Fiera a Milano e lavoro con Dive System, praticamente questo è uno dei prodotti che fa Dive System, è una muta che può andare bene sia per il subacqueo sportivo che per il subacqueo tecnico, è fatta in materiale di nylon e cordura, con i vari rinforzi nelle zone dove possono subire un'usura maggiore che può essere le ginocchia, il sottocavallo e la parte delle spalle, tutta la parte interna è fatta con della nastratura in aquasur dove tutte le parti praticamente vengono sigillate, particolare del calzino, monta un calzino in materiale Supratex che è antistrappo, di conseguenza è più resistente e sopra viene usato un rock boot con i lacci in modo da rendere diciamo la calzata più adeguata. Monta le valvole, si tecce e i polsini possono essere in lattice, in neoprene oppure il sistema innovativo che c'è adesso sono questi che sono quelli in silicone che hanno delle particolari clampe che nell'eventualità dove essere rompersi il polsino prima dell'immersione basta con un semplice gesto sostituirlo. I cerniari sono tutti in ottone e curano in maniera particolare l'attagliamento su misura.